Questa è la mia prima gara tra sfuda E' tutto buono, è tutto buono Vediamo di fare meglio e di migliorare Prevedi qualche ritocco della macchina? Beh, forse più si scalda la temperatura più dobbiamo la macchina e magari la abbassiamo se non si fanno forse troppo grande Ok, senti agente, Luca, la provo Sì, senti contredi Grazie, Luca Grazie